quello che c'è ti stai riprendendo? serio comunque prima le occhi neri fissa 11 settembre adesso puoi riprendere wow adesso abbiamo un nuovo piccolo make me camper aspetta ha un problema adesso make me a un problema mi tratterò io con la sola in posizione delle mani mi tratterò io con la posizione dell'iguana no non vuoi vedere il professor ecco è pronto è pronto è pronto è pronto vi presento il professor Litz ciao hi professor Litz stai con te e beh il professor Litz fa un po' il modesto ma è soltanto grazie a lui che io sono passato all'esame da missione a medicina è vero è vero è vero la mia professione in età nell'educazione e nell'istruzione di questo soggetto è soltanto grazie alle mie capacità tecniche che lui è riuscito ad arrivare dove altrimenti non sarebbe mai potuto arrivare ma ventronino con Montanelli ehm yes ventronino con Montanelli ci spieghi come fa a camuffare così bene la voce che vede al suo stomaco in genere si fa così si paga un totto il cameraman dicendogli di non inquadrare la persona che parla è soltanto il calzino capito? ah professor Litz lei è intelligentissima oh grazie lo so non c'è bisogno che me lo dica lei grazie 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 adesso potrò dormire felice eh ha una professor Litz no no non prenda in giro la mia gobba ha una piccola gobbettina no gobba? non la riprendere non la riprendere sono orribile no gobba? quale gobba? è un po' calvo professor Litz e non fategli notare che il suo accento inglese intanto sparisce è suscettibile la cola piccola e non fate neanche battute sul suo naso no il naso no il naso no no posso circolarla professor Litz certo si accomodi quella è la bocca e questo il naso è un tutt'uno se mi vuole grattare un po' la testa se mi vuole grattare un po' la testa basta 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 stop stop professor Litz si faccia vedere i suoi splendidi occhi mmm no perché? no ci parli un po' della spagna professor Litz come l'hai sembrata? spagna? mi è sembrata un po' tipo spagnoliforme un po' tipo ispanica direi siiii ecco il termine giusto ispanica tipo te entri la gente hola amigos sangria 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 basta sono sazio l'altro suo problemino a volte attacca la gola basta saperlo prendere vero professor Litz? oh yes sure io l'ho saputo prendere io l'ho saputo prendere si la gola prosto mi serve per un miracolo voglio far notare che quel calzino lo sape un pulsante eh no me lo sono cambiato che ore sono? sono due ore quattro giorni fa le 10 e 50 ah no sono ben due ore che me lo sono cambiato due giorni due giorni